E eccoci, non so se funziona, però, subiatelo. E questo è il fine da Ancher. E' anche se funziona, non so se funziona. E' anche se funziona, non so se funziona. E' anche se funziona. E' anche se funziona. Ovvio. Ovvio, ovvio, ovvio. Ma vedi che mi fa danno questo coglione di merda? E' anche se funziona. E' anche se funziona. E' anche se funziona. Aspetta. Espetta. Aspetta. Aspetta! Aspetta. Sì, 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 sì! Io al final ho fatto un solo di aree però. Va bene. Grazie. 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 E' un'altra via via C'è un'altra E' un'altra Niente, c'ho sto bug che se non apro l'inventario per fargli capire che non peso, pensa che peso. Fisso ormai. Com'è che sta volta l'ho bisciottato? Oh... Oh... ...nonFO... ...nonero... Cosa, non proviene neve... ...진짜 una riprasione... ...gatti... ...t、、 ... Oh Oh Sai che è giusto ormai non devo più scassionare Dammi tutte le chiavi che esistono Mi sono spezzato adesso C'è qualcuno? Vai 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 Di nuovo il bastone che in teoria serve per una guerra Oh Merda mi serve Se me lo ricordo avrei preso anche le altre C'è l'altra pelliccia di orso che avevo trovato lungo la strada L'orso che ho ucciso Siamo Il Per Perché Tutti Amثote Qu Slovence Imontete Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guard Presumo sarebbe stata una quest, questa. E qua devo ammassare una carne nuova per gli esperimenti. Diminuiamo quest'area d'alleare in cui dobbiamo andare. Diminuiamo quest'area. Diminuiamo quest'area. Diminuiamo quest'area. Abbiamo trovato una caverna. Finole incoglioniamo giù arco. Anzi, un po' che invece dove che stava. E' tipo... Tipo qui. Abbiamo trovato una caverna. Non credo che dentro ci siano reali. Non credo che ci siano reali. Clare per essere già questo. Grazie. 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 No, 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 no. Grazie a tutti